Parte dalla Sicilia il piano di intervento per la riduzione dei divari territoriali in istruzione. L'obiettivo è quello di contrastare la povertà educativa, un'emergenza nazionale che grava soprattutto sulle regioni meridionali, segnando un gap che vede la nostra regione, fra le ultime per livello di apprendimento nelle competenze di base. Gli ultimi dati invalsi sui livelli di apprendimento, ha spiegato l'assessore all'istruzione Roberto Lagalla, confermano una situazione ancora particolarmente complessa, soprattutto per la Sicilia. Le scuole con studenti in ritardo sui livelli di apprendimento di base sono più numerose di quelle che raggiungono livelli soddisfacenti in italiano, matematica e inglese. Su 520 scuole monitorate, 219 sono da definirsi scuole in difficoltà e 59 scuole in forte difficoltà. Su questo dato, ha detto Lagalla, abbiamo già iniziato a lavorare lo scorso anno, dando alle scuole risorse e strumenti per potenziare le competenze di base, con attività didattiche pomeridiane ed extracurriculari, ed intervenendo massicciamente sul fronte dell'edilizia scolastica. Anche l'ambiente nel quale si svolge il percorso didattico degli alunni, ha detto l'assessore, infatti incide in modo significativo sul rendimento complessivo. In questa direzione continueremo a lavorare potenziando in modo particolare il tempo pieno scolastico per contrastare anche il fenomeno della dispersione scolastica ancora particolarmente presente, soprattutto in alcune province.